C'erano davvero tutti i corpi delle forze armate nella splendida chiesa di San Bernardino a Verona. Esercito, aeronautica militare, finanza, carabinieri, insieme per celebrare come tradizione il precetto pasquale. Un'occasione per tornare a riflettere sul significato del servizio e dell'impegno di questi corpi nella difesa della libertà. Una libertà che, come ha ben spiegato il pastore della diocesi, Sua Eccellenza Monsignor Zenti, non è libertinaggio ma senso di responsabilità verso se stessi, gli altri e verso Dio. Le forze armate devono essere un presidio per la libertà, se ben intesa in quanto senso di responsabilità nei confronti della società civile. E vuol dire che le forze armate contribuiscono perché tutti abbiano la possibilità di essere responsabili dentro questo ambito e non per coercizione ma perché c'è una volontà libera che aderisce ai grandi valori della Costituzione. Libertà e forze armate quindi non come concetti contrari ma come mezzi per permettere il vivere sociale e civile in ogni luogo, anche là dove il rispetto delle diversità è ancora lontano. In quei paesi purtroppo noti per le stragi e le morti, le forze armate divengono strumento di pace e di convivenza civile. Le forze armate sono uno strumento di libertà, sono lo strumento che le democrazie adoperano proprio per mantenere questa libertà. Per cui non è antitetico ma è semplicemente la certificazione di questo compito che hanno in una democrazia alle forze armate, quello di assicurare la libertà di vita alla nostra società ma è di andare anche quando chiamate nell'ambito dei mandati internazionali a portare questa libertà in terre lontane dove la libertà è stata compromessa. Per cui direi che siamo orgogliosi di questa funzione che la nostra democrazia ci ha attribuito.